Quale futuro avrà la Palatina all'interno del nuovo disegno organizzativo del MIBAC? Lo chiedono al ministro Franceschini, parlamentari di Parma, con un'interrogazione presentata sia alla Camera sia al Senato. Romanini, maestri e pagliari sono preoccupati dalle notizie secondo cui le biblioteche non nazionali non avrebbero più una dirigenza dedicata, scelta che rischia di ripercuotersi sul complesso delle attività della biblioteca di Parma. Come parlamentari di Parma abbiamo ritenuto importante in questo momento di grande cambiamento, di grande cambiamento anche nel settore della cultura e dell'organizzazione delle sovrintendenze, segnalare al ministero la situazione di Parma la necessità che non si perda un ruolo importante come quello di dirigente della biblioteca Palatina che rappresenta uno dei nuclei più importanti del nord Italia per quel che riguarda le biblioteche storiche che ha associato un museo come il Museo Bodoniano. Diciamo che il depotenziamento di questo polo sarebbe secondo noi un danno per tutta l'Emilia Romagna. Proponiamo in subordine di avere un polo che sia almeno emiliano romagnolo, mettendo insieme la biblioteca Palatina con quelle estense. insomma tenere ad occhio il valore dei giacimenti culturali del nostro territorio è importante e può essere un'occasione di sviluppo anche turistico al quale guardare con molto interesse. Questo abbiamo fatto, questo abbiamo segnalato, ci aspettiamo una risposta breve.